In questo video vediamo come mantenere sana una relazione nel tempo. Se vuoi sentirti amato e connesso con il tuo partner, ti darò adesso alcuni suggerimenti utili ed efficaci su come costruire e mantenere sana una relazione. Tutte le relazioni sentimentali attraversano alti e bassi, e quindi richiedono lavoro, impegno, volontà di adattarsi, di cambiare, quindi di entrare a compromessi con il proprio partner. Quindi se la vostra relazione è appena all'inizio o state insieme da anni, ci sono alcuni passi che potete fare per costruire una relazione sana. Innanzitutto partiamo dalla premessa su che cos'è una relazione sana. Una relazione è unica e sana quando c'è un incrocio, uno scambio tra le persone, da un punto di vista di comunicazione, di bisogni, di desideri. Una relazione infatti inizia solitamente dalla condivisione di obiettivi, di interessi, e questo lo noterai soprattutto all'inizio quando ti stai frequentando magari con una persona e quando in qualche modo vi state corteggiando. Una relazione sana anche quando diamo amore ma nello stesso tempo ci sentiamo amati. C'è differenza ovviamente tra i due. Quando ci sentiamo amati succede qualcosa di eccitante, di profondo dentro di noi. Ci sentiamo accettati, ci sentiamo connessi con l'altra persona, ci sentiamo delle persone importanti. Ci sono invece alcune relazioni che rimangono bloccate in una pacifica convivenza, ma senza che partner si relazionino veramente poi tra di loro emotivamente. Quindi che cosa succede? Che in superficie la relazione appare stabile, ma in realtà in profondità non c'è connessione. Vediamo adesso quattro suggerimenti utili per mantenere una relazione sana. Il primo suggerimento è quello più importante, è quello di puntare sulla comunicazione, una comunicazione aperta e onesta. Una buona comunicazione è una parte fondamentale di ogni relazione. Quando entrambe le persone sanno cosa vogliono dalla relazione e si sentono a proprio agio nell'esprimere i propri bisogni, le proprie paure, i propri desideri, questo non può far altro che rafforzare la fiducia e il legame tra i due partner. Il secondo suggerimento è quello di trascorrere del tempo di qualità con il partner. Una relazione sana è fatta di guardare e ascoltare con il proprio partner. Condividere quindi momenti insieme, situazioni eccitanti, questo ovviamente accade in maniera spontanea soprattutto all'inizio, poi piano piano tende un po' a scemare. Invece dobbiamo essere costanti nel tempo a ritagliarci dei momenti di qualità. Quindi il lavoro, i vari impegni che trasformano in qualche modo una comunicazione da faccia a faccia a messaggi vocali, a messaggi scritti, mail, eccetera, eccetera, sicuramente non aiutano in questa situazione. Quindi ritagliamoci dei minuti, dei momenti, delle ore, un'oretta anche per mettere a parte i dispositivi elettronici e riuscire a parlare, scambiare informazioni faccia a faccia. Terzo punto, terzo suggerimento, mantenere viva l'intimità fisica. Quindi non soltanto la parte sessuale ovviamente, ma proprio il tatto. Il tatto è fondamentale nei rapporti umani. Quindi oltre al sesso è giusto mantenere una relazione sana con il partner, riuscendo a mantenere un contatto fisico. Che cosa intendo con questo? Un abbraccio quando ci si vede o ci si saluta, tenersi la mano per parlare e condividere di momenti, diciamo, importanti nella giornata che si è vissuto. Nelle prime fasi di rapporto, anche questo è una cosa che appare molto spontanea, ma poi piano piano è una cosa che tende a scemare. Quindi, perché poi c'è la preoccupazione della vita quotidiana, anche in questo caso bisogna cercare di ritagliarsi dei momenti, oppure semplicemente tenersi la mano con l'altra persona, mentre semplicemente stiamo raccontando un qualcosa di che abbiamo vissuto durante la giornata. Imparare a dare e avere nella relazione. Questo è fondamentale, il quarto punto. Se ti aspetti di ottenere ciò che desideri il 100% delle volte in una relazione, ti stai preparando alla delusione. Le relazioni sane sono costruite sul compromesso. Tuttavia ci vuole lavoro da parte di ogni persona per assicurarsi che ci sia appunto uno scambio ragionevole. Quindi riconosci ciò che è importante per il tuo partner. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al mio canale.